Ho fatto una bravata. Questa, in sintesi, la motivazione che la tredicenne, ritrovata a Tavuglia dai carabinieri di Pesero, avrebbe riferito sopito dopo che l'hanno rintracciata e riportata in caserma al sicuro. La minore si era allontanata dall'Interland milanese, dove abita con i genitori nella mattinata di ieri ed avrebbe preso, secondo la sua ricostruzione, un treno fino a Pesero e da lì raggiunto in taxi la piazza del paese di Valentino Rossi per inseguire un dolce ricordo, in un momento vissuto col padre proprio in occasione di un MotoGP seguito nel maxischermo della piazza. Forse un litigio in famiglia o una delusione personale, chissà qual è la ragione, alla base dell'allontanamento, in un momento, quello dell'adolescenza, sempre molto delicato e di fragilità emotiva per i ragazzi. Ma tutto è bene quel che finisce bene. I genitori, ieri non vedendola rientrare da scuola, hanno lanciato l'allarme denunciando la scomparsa ai carabinieri, dopo aver tentato in vano di rintracciarla. Le ricerche sono partite subito cercando di localizzare il cellulare della tredicenne, ma senza alcun esito, forse la ragazzina, pensando di essere raggiunta, lo aveva lei stessa disattivato. Questa mattina, intorno alle tre, la svolta, il cellulare della tredicenne viene riattivato e subito localizzato nel territorio di Tavuglia e sul posto si è fiondata una pattuglia del nucleo radiomobile di Pesero, che dopo poco ha ritrovato la ragazzina mentre camminava sola nella centrale via Battisti, infreddolita ma in buona salute e l'hanno accompagnata in caserma dove ha raccontato la sua bravata. Nella tarda mattinata di oggi sono arrivati a Pesori i suoi genitori, visibilmente risollevati per il buon esito della vicenda, che probabilmente si chiuderà qui con un semplice scambio di sguardi. Alle volte molte parole non servono, ma solo tanta comprensione. Grazie per la visione!